Buongiorno, benvenuti a questa resegna stampa di oggi, 20 marzo del 2021. Sono un po' barbuto, però mi permetterete di essere un po' barbuto almeno al fine della settimana. Vediamo subito cosa è successo sui giornali. Ieri, dopo ore di ritardi sembrava di ritornare al vecchio governo Conte, è stata fatta la conferenza stampa di Mario Draghi, penso l'abbiate vista, in cui zero retorica, in effetti un cambio di passo dal punto di vista comunicativo, ma dal punto di vista dei contenuti possiamo anche dire che non è che c'è stata una rivoluzione rispetto al governo Conte. La cosa che è successa è che c'è stato anche un ritardo sia nel Consiglio dei Ministri sia nella conferenza stampa. Un po' tutti i giornali lo notano, oggi in maniera sarcastica lo nota Travaglio che dice che questa deve essere la grande differenza tra questo governo e quello precedente. In realtà è arrivato in ritardo come un Conte qualsiasi, ma lo scontro c'è stato ieri sulle cartelle esattoriali. Vediamo cosa è successo. Si capisce dalle cronache di tutti quanti i giornali, cioè le cartelle esattoriali, sono state condonate sotto i 5.000 euro tra il 2000 e il 2010. Cioè sostanzialmente quello che molti osservatori dicono si tratta di cartelle esattoriali del tutto inesigibili ormai, ma comunque sia fanno sì che il cosiddetto magazzino dell'Agenzia delle Entrate di 16 milioni di cartelle di esattoriali verranno cancellate togliendo un piccolo incubo a coloro che ce l'hanno ancora in casa. In realtà la Lega voleva e anche il centrodestra che le cartelle esattoriali cancellate non fossero soltanto quelle tra il 2000 e 2010, ma tra il 2000 e il 2015. Quindi non 16 milioni di cartelle, ma 65 milioni di cartelle. Quindi c'è stata, in realtà si tratta per la gran parte di piccole questioni bagatellari, anche se sono fuori dall'esclusione, secondo l'accordo che appunto ieri ha avuto il governo, le vostre multe stradali, i cosiddetti danni errariali e i debiti derivanti da evidentemente truffe sugli aiuti di Stato o questioni che sono arrivate dagli aiuti di Stato. La Guersoni oggi sul Corriere della Sera dice che è stato un asse nel centrodestra con il Movimento 5 Stelle, quindi Gelmini, Giorgetti e il Movimento 5 Stelle, contro l'EU e PD, contrari di fatto a questa vicenda anche il Premier che si è schierato con la sinistra. Tra l'altro in conferenza stampa ha parlato esplicitamente di un condono e dice che non c'entra nulla a un condono, dice il Presidente del Consiglio Draghi, sostanzialmente dice la Guersoni, in un provvedimento di emergenza come quello che è stato fatto ieri. Devo dire che quel provvedimento di emergenza tiene tante cose, il condono è qualche cosa a che vedere su questa roba e Minzolini, citando il nuovo capogruppo di Forza Italia, Occhiuto, utilizza una, sul giornale, usa una metafora che è abbastanza congeniale, come se dopo la guerra l'Agenzia delle Entrate andasse a riscuotere le multe che sono state fatte per strada prima e dopo la guerra. Insomma c'è un prima e dopo, il Covid sostiene Occhiuto e non è l'unico a sostenerlo. Il pezzo forse più interessante su tutta la vicenda di questa rottamazione, che poi per le persone normali vale anche poco, non è che stiamo parlando di nulla, ma lo scrive Capezzone e dice è battaglia sul fisco, ma la Lega non la spunta, sostanzialmente Lega e Centrodestra non vincono ieri la partita, fanno buon viso a cattivo gioco, ma sostanzialmente la rottamazione di queste 16 milioni di cartelle è poca roba rispetto a quello che loro chiedevano. Bene in realtà i nuovi fondi che ieri sono arrivati sul turismo, bene la Porchietto che è una parlamentare insieme di Forza Italia, Torino, l'ha fatto una battaglia sua, l'aumento dei soldi per la neve, però in realtà questa retorica del condone, dice Capezzone, è una retorica assurda, è gente che non ce la fa pagare, è gente che in realtà non si tratta di evasori, quelli di cui stiamo parlando oggi, stiamo parlando di persone che hanno beccato dopo la crisi, tra l'altro il 2007 che qualcuno di voi ricorderà, hanno beccato uno dietro l'altro cartelle che non riescono a pagare e che li stanno ancora gravando sulla loro capocciona. In sostanza c'è questa battaglia pazzesca tra sinistra e destra, ma con il Movimento 5 Stelle che in questo caso è stata destra e in realtà il presente Consiglio Draghi su questa cosa non ne vuole sentire parlare e dice niente condono e definisce tale quello che è successo e quindi sostanzialmente mi sembra che la partita sia diciamo abbastanza ridicola questa qua fino al 2010. Non ha certo vinto il centrodestra in una partita in cui Speranza e Orlando hanno buon gioco a, diceva qualcuno, a compiacere quell'anima massimalista della CGL, mi sembra proprio capezzone che di questa cosa non ne vuole sentire parlare. Nel frattempo cosa c'è nel decreto sostegni, cioè si parla da ristori e sostegni, anche su questo travaglio ironizza sul suo pezzo. Guardate, io ve la faccio molto semplice, il Sole 24 ore può sbagliando un 40.000 con un 50.000, cioè ha sbagliato a fare dei conti diciamo di sottrazione ma sono dei conti intermedi, quelli per cui i professori di mio figlio gli farebbero un mazzo così, ma non ai giornalisti. Detto questo il Sole 24 ore è come sempre molto chiaro nello spiegare quello che è successo nel decreto sostegni. Questi fanno così per i 32 miliardi, 11 miliardi per le partite IVA, sono numeri incredibili. Vi posso spiegare francamente che cosa vogliono dire, così che voi tutti insieme a me capiate esattamente il senso. Se un bar fatturava nel 2019 80.000 euro, nel 2020 è sceso ad esempio a 30.000 euro il fatturato, ha perso 50.000 euro di fatturato. Un bar, non diciamo un ristorante perché i ristoranti fatturano un po' di più, ma un bar è passato da 80 a 30, ha perso 50.000 euro di fatturato. Quanto gli dà il decreto sostegni? 2.500 euro. Ha perso 50.000 euro e il decreto sostegni gli dà 2.500 euro, attraverso un calcolo che è molto migliore rispetto al precedente decreto, perché il precedente decreto prevedeva semplicemente che tu andavi a vedere quant'era la perdita di fatturato su un mese, cioè una minchiata mostruosa che solo Conte e Casalino potevano pensarsi. Quindi quello che cosa fanno in questo decreto? Considerano tutto l'anno, vedono quanto è perso in tutto l'anno e poi in funzione di quello te lo rendono mensile e ti danno però, attraverso un calcolo piuttosto arzigogolato ma non complicato, ti danno alla fine un ristoro. Ma il ristoro, parliamoci chiaro, è per il bar che ha perso 50.000 euro di fatturato, sono 2.500 euro. Di che stiamo parlando? Di niente, tant'è che Draghi ha detto in conferenza stampa che è consapevole della parzialità degli aiuti, almeno non ci sta a prendere per i fondelli. Soltanto la stampa, gli stampisti favolosi dicono Draghi più ristori ma c'è il condono, quindi dice la stampa due cose piuttosto false. Più ristori non è vero perché i ristori sono più o meno quelli che aveva già previsto Conte, tra l'altro per la singola partita IVA sono ridicoli, ma c'è il condono che in realtà avete capito bene che se chiamiamo questo condono c'è gente che non paga le tasse, qua c'è gente che ha delle cartelle esattoriali che chiede semplicemente che quelle cartelle esattoriali gli sia data un po' di clemenza, visto la crisi del 2007 quando le hanno prese e la crisi recente. Io non è che sia un grande fan dei condoni, avendo pagato tutte le imposte, ma se questo lo chiamiamo condono stiamo dando una parola, mi permette anche il Presidente Draghi, un po' eccessiva rispetto a quello di cui stiamo parlando. I condoni ne abbiamo visti in Italia e sono di ben altra fattura. Nel frattempo Draghi in conferenza stampa ieri non parla soltanto di sostegni e di condoni, come lui ha fatto chiaramente intendere, e dei fondi. Dice che arriveranno più in fretta e secondo me lo strumento che loro hanno stabilito, cioè che questi soldi arriveranno dall'Agenzia delle Entrate attraverso il sistema della Sogei, che non è uno straordinario, lo leggo su Solo 24 Ore, che non è il software più fantastico del mondo, ma con controlli solo ex post, insomma questo potrebbe essere un passo avanti. Il vero punto è che ieri ha parlato anche di vaccini, ha detto che suo figlio si è vaccinato con AstraZeneca, che lui farà AstraZeneca e che apre a Sputnik, ci voleva Draghi per aprire a Sputnik, e poi dice che fermare AstraZeneca non è stata figlia degli interessi tedeschi, perché dice ma quali interessi tedeschi avrebbero i francesi e gli spagnoli che hanno fermato AstraZeneca? Insomma uno poteva obiettare a Draghi se forse in Italia si fosse astenuta dal bloccare il vaccino, forse tutta Europa non sarebbe andata su questa vicenda. Salvini che cosa dice? In un'intervista oggi alla Corriere della Sera dice di tutto quanto, insomma come detto fa buon viso e cattivo gioco, la cosa che non gli piace è il blocco agli sfratti che continua perché è un colossale sproprio la proprietà privata e su questo ha perfettamente ragione, ma insomma se l'attrazione del governo è a sinistra, per cui la cancellazione delle cartelle è un condono, per cui bisogna invece fare come è stato fatto, perché in realtà ci sono anche delle misure sul lavoro importanti che ci segnalano tutti i giornali, tanto c'è la proroga del blocco dei licenziamenti, cioè questo è un paese in cui alle imprese gli si dice non potete licenziare, ai proprietari di casa gli si dice non potete mandar via quelli che stanno a casa vostra. Tra l'altro ieri mi è arrivata una cosa che non ho letto da nessuna parte e ve la racconto, se un povero entra in un negozio di alimentari e ruba un po' di alimentari viene arrestato e comunque viene processato, se un povero entra in un negozio di vestiti e ruba dei vestiti viene processato e viene condannato, se un povero o presunto tale entra nella tua casa e la occupa e non paga le bollette e ti ruba i soldi non solo dell'affitto ma anche del condominio e delle luci che tu paghi, quello lì ha diritto di rimanere in quella casa vita naturale durante. Io la trovo una cosa fantastica, semplicemente perché il problema poi tutto sommato non è questa cosa grossolana sul povero, è semplicemente sul fatto del diritto di proprietà, cioè sul fatto che tu hai il diritto alla proprietà della tua casa e per moltissime persone questa rappresenta inoltre una fonte di reddito indispensabile ma indipendentemente da questo la civiltà occidentale e liberale si basa sul diritto di proprietà, però se questa cosa qui, tra l'altro l'emergenza non giustifica nulla perché questi sono estratti che erano già stati stabiliti prima dell'emergenza, vabbè e di questo parla Salvini. Nel frattempo il Fatto Quotidiano si interroga su come stanno andando i sondaggi per il governo, è finita la luna di miele, scrive Travaglio sul suo giornale e starebbe scendendo sotto il 50%. Nel frattempo le misure del lavoro di cui parlavo, c'è la proroga del blocco dei licenziamenti, c'è ed è una cosa buona e giusta, la deroga al decreto dignità, quello provato dai leghisti e dai grillini della prima ora, che fu un'altra minchiata colossale, gius lavoristicamente parlando, un'altra delle robe di sinistra che piacciono tanto ai giornalisti, perché il decreto dignità prevedeva intanto che i contratti a termine non possono essere superiori a due anni, con questa gigantesca ipocrisia che se tu dici, guarda, non puoi fare contratti a termine fino a due anni, tutti diventano tempi indeterminati. Come i giornalisti dovrebbero ben sapere, con questa folta platea di collaboratori di cui si valgono tutti i giornali, è una minchiata questa, ma appunto questa è una minchiata anche sorpassabile. Quella incredibile è che fare contratti a termine ci voleva sempre una causale, che è un casino scrivere. Beh, insomma, questo governo, come anche precedente, ha prorogato la sospensione della necessità di una causale per poter assumere a termine. Io trovo già queste proroghe delle sospensioni una cosa incredibile, siamo in questo paese diciamo in cui si devono fare le proroghe delle sospensioni di una legge fatta dai leghisti e dai grillini che oggi ancora sono maggioranza nel Parlamento. Fantastico. Nel frattempo è stata, e l'altra cosa stupenda, è prorogato, pensate un po' voi, il contratto dei 3.000 navigator. Tutti, financo i 5 Stelle, dicono che non servono assolutamente a nulla ai navigator, ma il loro contratto è stato prorogato fino a fine dicembre e si è dato loro la priorità nei concorsi che faranno le regioni per essere assunti. Io la trovo un'altra cosa straordinaria. Quando vi parlano di merito, non diciamo cazzate, il merito non esiste. Esiste l'assistenzialismo di Stato, per cui noi abbiamo preso dei poveracci a fare dei navigator per un lavoro totalmente inutile, non per colpa dei navigator, ma per chi se l'è pensato. Una volta che abbiamo fatto un contratto a termine abbiamo detto, sentite che c'è di nuovo, lo rinnoviamo di volta in volta, anche se non serve assolutamente una minchia. Tutti zitti, col timbro di Franco, col timbro dei leghisti, col timbro dei grillini, che però l'hanno voluti loro, col timbro della ragioneria del Stato. Continuiamo ad andare avanti così. 3.000 navigator, prorogati i loro contratti, nonostante servano a nulla, secondo tutti quanti. Nel frattempo, a proposito di cose che non servono a nulla, è una importantissima intervista di uno dei tre ministri di Forza Italia. Il centrodestra parla agli italiani e la Carfagna, amministro per il Sud, già un ministero che serve assolutamente a nulla, non per colpa della Carfagna, ma per il titolo che esso ha. Noi del Sud sappiamo bene quanto è totalmente inutile quel ministero, se non per creare una segretaria e una macchina blu in più. Insomma, il Ministero del Sud che cosa si pensa? Ideona, una due giorni sul Sud con Draghi, eccola là, è l'idea nell'idea e facciamola tutta in streaming, così i cittadini la possono ascoltare. Immagino le folle di cittadini che sentono la Carfagna, che parla del Sud e Draghi che interviene per dire le solite cose che si sentono dire sul Sud e che risolvono al Sud niente. Almeno la facciano, speriamo, a Bari, a Napoli o a Reggio Calabria, perché almeno ci paghiamo l'affitto dell'albergo. L'unica cosa che può essere utile noi contribuenti di tutta Italia per questa inutile, ennesima conferenza sul Sud. Ma andiamo avanti. Altre due o tre cose stupende. Beh, vabbè, la questione di Grillo è favolosa. Grillo ieri fa un decalogo, questo criminale, criminale di testa, oltre che, voglio dire, è condannato per, anzi no, è patteggiato per un assassino difeso dal povero e compianto avvocato Biondi, liberale tutto d'un pezzo. Ma insomma, questo Grillo, ieri si è inventato questa cosa geniale. Quando devono venire i grillini nei talk show, devono essere inquadrati soltanto di faccia, non si può fare una doppia inquadratura con un altro, non gli si possono inquadrare le scarpe, non gli si possono inquadrare niente, non bisogna interromperli. Allora Grillo, toc, toc, facciamo prima, non invitiamo i grillini. Guarda, ma vengo benissimo, io adorerei, a parte il fatto che alcuni di loro sono anche persone normali e civili e che capiscono perfettamente le cazzate che dice Grillo, ma purtroppo questo c'è al 33% quasi dei consensi aveva alle ultime elezioni, quindi a molti parlamentari e questo stratega della minchia, invece di stare a fare gli affari suoi con Conte e scomparire dalla faccia della terra dal punto di vista politico, invece sta qua che detta, e spero che non ci sia nessuno di noi telegiornalisti che possa, ma non ci sarà nessuno, che a secondi l'ennesima cazzata di quello che voleva prendere noi giornalisti, mangiarci, digerirci e poi vomitarci, ve lo ricordo sempre, che questo pensa dei giornalisti Grillo, io penso di lui ben peggio. A proposito di giornalisti e minchiate, la direttrice nera di Team Vogue, cioè Vogue ha un giornale per le teens, è il capolavoro, lo leggo sul Corriere della Sera, del Politicamente Corretto. Questa ragazza nera è diventata direttrice, aveva 27 anni, si dimette perché a 17-18 anni aveva fatto dei tweet contro gli asiatici e si incazzano gli asiatici perché dice quanto è stupido quel mio professore asiatico, una volta che lei prende brutto voto dice quanto è stupido quel mio professore asiatico, certo lo scrive in un tweet, semmai il professore asiatico doveva prenderla per un'orecchia e dire è stupido il tuo professore, 5 condotta, non lo so, ma non dopo 10 anni rompergli le balle perché ha scritto questo tweet cretino e l'altra cosa ha detto mi sono svegliato una mattina e avevo gli occhi gonfi come se fossi un'asiatica. Ecco, questo è il motivo per cui in America una perde il lavoro come direttrice di Team Vogue, ma siccome questi sono fissati e lei per prima per la diversity, ben gli sta, cioè la nera che non ha mantenuto le promesse di diversity e di rispetto degli asiatici, è una specie di gigantesco cortocircuito in cui speriamo che ci sia gente che se ne fotta come me e che non verrà mai licenziato dalla zuppa di porro semplicemente perché pensa che se una dice una roba di questo tipo non debba essere punita. Ma lei è vittima della sua cultura, Team Vogue, tra l'altro questa favolosa Team Vogue, sapete perché la licenza? Perché a incavolarsi è un investitore pubblicitario che guarda caso voleva tutta l'inclusione eccetera ma perché pochi anni fa era stata accusata di razzismo, perché questo è il mondo, viene accusato di razzismo, sei razzista ma devi dimostrare di non esserlo e quindi dici alla direttrice di Team Vogue di licenziarsi perché ha parlato male degli asiatici, questi si mangeranno. Poi ieri c'è stato il vertice Cina e America e tu dici beh se l'America esprime questa cultura ci siamo persi pure loro, dopo l'Europa della Ursula von der Leyen ci siamo persi anche loro. Sugli inciampi non solo in aereo ma del presidente Biden, scrive come sempre molto bene Roberto Fabri oggi sul giornale, inciampa tre volte salendo sulla scala dell'aereo, ma soprattutto la cosa che diventa per lui più pericolosa è l'incontro che gli ha chiesto vis-à-vis Putin e ricorda bene Fabri rischia di fare come Kennedy quando impreparato, mi sembra nel 61, vide Khrushchev, penso, non mi ricordo, anzi Fabri lo scrive bene. Direi che per oggi è tutto, buona giornata, ciao. Grazie a tutti.